Esercenti a lezione dal criminologo, l'iniziativa gratuita della Conf Commercio che ha istituito un corso antirapina rivolto ai negozianti. Ce ne parla Rossella Santilli. Farmacisti, tabaccai, gioielieri, benzinai sono queste le categorie più colpite quasi ogni giorno a Roma. Del resto gli ultimi dati forniti dal Viminale parlano chiaro. Nel 2011 a Roma le rapine sono aumentate dell'8,6% rispetto all'anno precedente per un totale di ben 4.332 assalti. E paura e panico sono ormai diffusissimi tra gli esercenti che oggi hanno risposto in massa ai corsi antirapina promossi da Conf Commercio per imparare a comportarsi con i banditi. Quello che viene insegnato è soprattutto quello di assumere un comportamento sicuro, quindi vigilanza finalizzata a prevenire il fenomeno rapina e soprattutto curare l'incolumità personale più che la tutela dei beni. In altre parole viene insegnato come comportarsi in una fase critica, quindi durante una rapina, per ridurre al minimo le possibilità di subire una violenza fisica. Ma bisogna imparare anche a ridurre l'ansia, evitando di opporsi in maniera errata a chi entra armato in negozio. Ed anche il tono della voce deve essere modulato in una maniera particolare verso chi punta una pistola, magari sotto effetto di droga o alcol. Ci chiamano i bancomat della criminalità, quindi cerco di portare gli associati qualche ulteriore notizia. Siamo qui a corso proprio per sapere come gestire una situazione di rapina e di eventi simili. Voglio essere pronti proprio perché se dovesse capitare almeno siamo preparati.